Allora, un brano un po' particolare, facciamo così, come si chiama maestro questo brano? Entrai, tre, due, tre, quattro, cinque, clock, ecco, signori, per tutti quanti voi, questa è vera musica, aspetto, non ci andiamo, vai, vai. Allora, un po' particolare. 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 Massimo Scardacci. Allora, un po' particolare. 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 Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti